Sam? Buongiorno, Sofia. Imposta il percorso. Devo vedere un amico speciale. Aiutami. Dovresti essere un po' più specifica. Dove vuoi andare? Ah, scusa. Portami alla pista di fondo. Calcolo percorso. Tempo previsto, undici minuti. Qualche settimana fa ho deciso di provare una cosa nuova. Credo di aver fatto la scelta giusta. Credo. Onestamente sono un po' nervosa. Tornare in ufficio è stato orribile. Dopo due anni passati a lavorare da casa, era chiaro che non sarei riuscita a tornare alle vecchie abitudini. Il traffico, la sveglia impietuosa, vestirsi per l'ufficio. Di colpo non ero più padrona della mia vita. Ho perso la flessibilità di cui avevo bisogno per stare con i bambini e per me stessa. Sì, ero davvero molto stressata. Stressata? Quindi faremmo finta di non ricordare i pianti per l'incidente nel parcheggio. Ah, doveva rimanere tra noi, Sam. Sapevo che dovevo cambiare qualcosa. Poi un'amica mi ha parlato di una nuova opportunità lavorativa. E mi sono informata subito sulla Forever Living. Non è per tutti. Sinceramente non so ancora se faccia per me. Per Forever è normale aiutare altri come te ad avere un'entrata extra semplicemente condividendo e vendendo prodotti eccezionali a persone da tutto il mondo. Amo i loro prodotti. Tutti in Forever, soprattutto i tuoi colleghi incaricati, vogliono che tu abbia successo. Ci sono passati prima di te e sono disposti a supportarti in ogni passo del tuo percorso. Già, so di non essere sola in questo percorso. Esatto. E so che in questo momento non ti senti apprezzata e stimolata. Questa è un'occasione per cambiare le cose, però. Per fare qualcosa di grande per la tua vita e per quella della tua famiglia. Hai ragione. So che posso dare davvero molto di più. Vero? Ma cosa rende Forever la scelta giusta? Ottima domanda. Sai, ci sono molti modi di guadagnarsi un extra nella vita. Ma penso che scoprirai che Forever ha veramente molto da offrire. Anzi, visto che siamo in anticipo, posso mostrarti un video che potrebbe chiarirti le idee? Sembra interessante. Ho individuato una piazzola di sosta sulla destra. Riproduco video Forever ora. Benvenuti in Forever. Forever Living Products è stata fondata oltre 45 anni fa da Rex Mon. Rex voleva creare un'azienda che permettesse davvero a chiunque, ovunque nel mondo, di poter avere una vita migliore, per sé e per tutta la famiglia, sviluppando un'attività in proprio. Forever ci offre dei prodotti per il benessere di altissima qualità. Prodotti per l'igiene personale e per la bellezza della pelle. La qualità dei nostri prodotti deriva dal totale controllo che abbiamo sulla filiera. Dalle piante che coltiviamo nei nostri campi, ai prodotti finiti. Fino all'arrivo nelle case dei nostri clienti, che raggiungiamo grazie a una rete di distribuzione globale. Per esempio, la maggior parte dei nostri prodotti è a base di aloe. Forever non solo possiede e coltiva i terreni su cui cresce l'aloe, ma possiede e gestisce i propri impianti di lavorazione, i laboratori di ricerca e sviluppo, il team di addetti al controllo qualità e persino i canali di distribuzione. Ma non è ancora finita! Investiamo continuamente in nuove tecnologie e attrezzature per essere sicuri di offrire sempre prodotti innovativi e di alta qualità. Le nostre linee coprono le maggiori categorie di prodotti dei settori benessere e bellezza, come la gestione del peso, la bellezza della pelle, l'integrazione alimentare, l'igiene personale e molto altro ancora. I nostri prodotti sono pensati per tutti e i nostri incaricati indipendenti, chiamati FBO, sono persone proprio come te che si sono impegnate ad aiutare gli altri a fare scelte più sane, costruendosi un'attività alle loro condizioni per avere un introito extra, senza dover fare alcun investimento finanziario, perché è così che la nostra attività funziona. Sono davvero onorata di aver scelto questa attività. Sono felicissimo di essermi dedicato a Forever. Ha rivoluzionato la mia vita. Ricompensiamo i nostri incaricati per condividere il loro entusiasmo e ciò che amano. Il piano di marketing Forever, poi, ha tanti incentivi e offre bonus e viaggi internazionali per premiare gli FBO in base ai risultati raggiunti grazie al tempo e all'impegno dedicati all'attività. Forever, inoltre, vi darà tutti gli strumenti e il supporto necessario per permettervi di costruire un'attività fiorente e sostenibile al vostro ritmo. Vendiamo i nostri prodotti in oltre 160 nazioni e questo permette di creare il proprio team di lavoro in qualsiasi angolo del mondo. L'opportunità Forever non ha limiti. Scegli tu dove vuoi arrivare. Impressionante! Forever è veramente un'azienda solida. Sicuramente sanno come si arriva al successo. Esatto. Secondo te potrei mai indicarti la strada sbagliata? Dai! Comunque penso che potrei riuscirci anche io. Specialmente con il giusto supporto. Però... Però? Sono davvero pronta. Sarò in grado di fare una cosa del genere. Questo lo sai solo tu. Hai detto tu di non essere soddisfatta di come sta andando la tua vita e di aver bisogno di un cambiamento. E se non ora, quando? A volte basta credere un po' di più in se stessi, rimboccarsi le maniche, giocarsi tutte le carte vincenti e avere fiducia di poter ottenere veramente ciò che conta di più. Hai proprio ragione. Se voglio farlo, devo metterci tutta me stessa. Ce la farò. Questo entusiasmo ti porterà lontano. E parlando di posti lontani, sei giunta a destinazione. Ecco l'inizio della pista. Ma... Non avevi una riunione? Certo. Una riunione con il mio team forever. Non vedo l'ora. Sam, mi sa che sono pronta a cambiare. Sembra proprio il posto giusto per me. E se lo fosse anche per te? Ovunque ti porti il tuo percorso, ricorda che sei tu. Al posto di Guida. Ti auguro di trovare la felicità e il successo. Ehi, ragazzi! È arrivata Sofia! Ben arrivata! Grazie! Sei pronta? Sì, prontissima. E tu? Desideri iniziare il tuo viaggio con Forever? Potrai farlo assieme a migliaia di altri incaricati da tutto il mondo. Contatta la persona che ha condiviso con te questo video e scopri subito come iniziare ad avere un'entrata extra già da oggi. che ha condiviso con te. Noi! 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 Grazie a tutti.